Oh, cosa abbiamo qui? Ma Paco, non sarebbe dovuto uscire lunedì? Perché è uscito mercoledì? Perché, vedete, la settimana di Ferragosto non abbiamo fatto niente Quindi questo è un piccolo regalino per, diciamo, farmi scusare da questa cosa Quindi vi beccate non uno, ma due episodi di Dragonstone in una settimana Buona morte Comunque ho fatto una cosa Ora noterete subito appena scora giù Ok, c'è il mio personaggino Cosa sarà mai successo alla Fiera dell'Est? Per due soldi, un hack di merda, mio padre comprò E giunse, hack sponge che uccise, bishop che avevo insultato Senti, tieni e vattene Oh, che peccato, cosa sarà mai successo? Aspetta, oh, no, ma sto barando Ci vediamo fra due secondi Questa è la mia squadra adesso Mai tiena PG8 17 La troca Avon E Gina Andiamo a fare il culo Ah, giusto Cosa ha fatto il nostro B-Sharp? Vi devo spiegare giusto una piccola cosa di scripting Mettendo una variabile Essa si, diciamo, in parole povere per farvi capire Annulla una volta che il gioco è resettato in quella mappa In pratica se c'è uno script calpestabile che utilizza una variabile Per qualche motivo a me non noto Se salvo il gioco in quella città Spengo e riaccendo Lo script si verificherà di nuovo Così Adesso andiamo verso nuove avventure Ho fatto bene a dargli le caramele rare a quanto pare Erano giusto quell'attimino forti Questo blocco bianco cosa mi significa? Vabbè Salve, giovane allenatore Sono in capo palestra di Alberopoli Qui c'è qualcosa che non riesci a vedere giusto Se usassi questo strumento sull'ostacolo invisibile No, descrivere non serve Ti faccio vedere È più divertente Allenatori e i tuoi pokémon sono pronti per la lotta? Sì Bene, sono proprio curioso di vedere cosa sai fare Master usa il devonscopio Wow, so riconoscere quando uno ci sa fare con i pokémon Prendi questo, ti servirà Grazie, anche perché sai Senza quello non posso accedere alla tua palestra Quindi Eh Sarà mica una palestra volante? No E infatti Bello, cioè Sei pokémon a un allenatore Vabbè È al 38? Scusa 41? Se sono tipo alla quarta, quinta palestra I pokémon sono a livello 34 Io mi immagino già che i livelli siano alla Lega Al 100? Spero di no Oddio Andiamo amici Verso 9 Yeah Ti aspettavo con molta ansia Via Così A parte la sfida di Master Poche fa Neanche capo palestra Mi raccomando PG da 40 Perfetto Ciao Ciao anche a te Ciao anche a te Ricordatevi Ho usato le caramelle rare per questo Al 50 Sì Level scaling qui Si mangia Ho perso Arg Meriti la medaglia Comunque belli i Taisa di Ruby Destiny Certo Ottima scelta Basta mettere gli allenatori coraggio Sei pokémon Buon dio Yeah Ho un ritardato maggiore Basta con i raggi di vista infiniti Basta Oh Dio Porto areni Dove sono i pannelli solari Aspetta No Hotel Alga Il paradiso dei viandanti di Alghepoli Non ha modificato il Team Magma Oddio Non ci credo Cos'è quella formazione raggiunta che si interrompe Questo è il massimo grado che possiamo raggiungere in Dragonstone penso Poi sono sicuro che mi sbaglierò E devo dire che la trama di questo gioco è bella Però non la sto vedendo No 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 lui Ti userò come i Champslave Mi spiace Tanto sangue e ciuga fa schifo Why frantumata la roccia che bloccava la strada insieme a me riconosciuta per evocità questa No E lo scritto di Rubino e Zaffiro Non ci credo no E non ancora cosa Levati Dimmi di sì No Non ho già avuto Odio la mia vita Aspetta Aspetta C'era forse un percorso in cui si dovesse far surf Diamo una piccola controllatina Oh cosa stai aprendo No Questo qui significa Barare Andate a fare in culo Allora 4027 Non è una variabile lo sapevo Sapete cosa Vai a fare in culo E la madonna Ti prego Quanti allenatori Argentopoli E Parte la sfida di cacca capo palestra Va bene io dopo questa direi che possiamo concludere l'episodio Vabbè tanti applausi al nostro Bishar per i nomi scelti Molto simpatici Faccio ridere vero Hai avuto una maglia su cacca capo palestra Tieni la medaglia e non fare troppe storie Contento ora Sì Quindi dopo questa bella puntata Che io mi sono divertito molto a registrare per via della facilità del gioco E del level scaling adeguato Ci vediamo questa volta per davvero però A lunedì prossimo mi raccomando Passate dal secondo canale Al gruppo Telegram Dal gruppo Facebook Perché quanto pare qualcuno l'ha voluto aprire Dalla pagina Facebook Dal canale Telegram Dove verrete continuamente aggiornati sulle notizie del canale E ci vediamo a lunedì prossimo Dov'è la candeggina?